Una PDL per l'istituzione della zona economica speciale della cultura Matera Basilicata, così da rilanciare la missione di Matera Basilicata 2019. A farsene promotore il consigliere del PD Roberto Cifarelli, che ricorda cosa ha significato l'esperienza di Matera 2019 diventata una vera e propria matrice per tutte le città che si sono candidate a capitale italiana della cultura per il mondo che da anni sceglie la cultura come grande motore per lo sviluppo. Solo il governo Bardi, per bieca partigineria, sottolinea Cifarelli, ha ignorato la realtà, così come la lettera inviata dal presidente della regione Basilicata al ministro per le politiche di coesione fitto nel dicembre 2023, con la quale ha chiesto l'istituzione di un azze speciale della cultura 4.0 di Matera e la stessa richiesta avanzata alla loro ministra Carfagna nel luglio del 2021, nulla hanno mosso. La città di Matera e la Basilicata hanno bisogno, dopo il 2019 e dopo la pandemia, conclude l'esponente del PD, di ripensarsi. E attraverso la cultura siamo stati sempre convinti che questo potesse accadere. Il 17 ottobre 2024, a dieci anni dalla designazione a Capitale Europea della Cultura, a Matera, chiameremo a raccolta tutti coloro che hanno a cuore questo tema in una presentazione pubblica della proposta di legge a cui spero partecipi anche il presidente della regione Bardi. Grazie. Grazie.